Stadio Tullo Morgagni, domenica ore 15. Di fronte al Cesena nel secondo e ultimo match su campo neutro si affaccia la San Maurese di mister Mastro Nicola. Da dimenticare per gli uomini di Giuseppe Angelini la sconfitta bruciante è patita mercoledì contro il Matelica. La condizione fisica per De Feu di sé compagni è piuttosto buona, non saranno del match gli infortunati Zammarchi e Benassi. Secondo me noi abbiamo retto bene, al di là che non potevamo essere al 100% come loro, però ripeto, noi i crampi non li ha avuti nessuno, le sostituzioni sono state per far rifiatare, per migliorare un po' la squadra dal punto di vista fisico perché entra uno fresco e esce uno più stanco. Per me tutto bene, l'unica cosa è l'episodio. Davanti al proprio pubblico il Cesena cercherà subito riscatto. Dall'altra parte la San Maurese si presenta con tre pareggi fin qui rimediati e il sogno di fare lo sgambetto al cavalluccio. Angelini avvisi i suoi. Abbiamo il derby, vi ricordate la Savignanese? Dobbiamo preparare la partita nei migliori dei modi. Io sono pronto a questo campionato, i giocatori sono pronti. voi?